ciao e benvenuto in questo nuovo video di presentazione dell'opportunità che c'è dietro questa incredibile azienda che world io mi chiamo daniele veceglio ho 26 anni da cinque anni sono in questo fantastico mondo che è il network marketing con veramente grandissime soddisfazioni e oggi sono molto emozionato perché ti sto presentando veramente un'opportunità per incrementare quello che sono le tue entrate che non ha paragoni in questo momento nel mondo del network marketing quindi ti accompagnerò durante il corso di questa presentazione e ti farò anche entrare in quelli che sono stati i miei ragionamenti che mi hanno portato a scegliere questa azienda a scegliere di collaborare con questa azienda ma soprattutto ti farò anche dei paragoni con quello che c'è già sul mercato oggi sempre nel mondo network marketing quindi nel mondo del passaparola per fare cosa per fare in modo che tu a fine presentazione abbia il 100% delle informazioni per poter prendere fin da subito una decisione nel rimanere magari cliente quindi solamente acquistare prodotti che ti farò vedere che sono veramente una cosa di imbarazzante ovviamente in maniera positiva ma anche magari decidere bene decido di cominciare e inizio a lavorare collaborare con questa azienda perché quello che ti farò vedere non ha in questo momento paragoni nella maniera più assoluta e una slide con cui comincio è con una frase una citazione di Bill Gates che dice il successo il segreto del successo sta nel capire che verso sta andando il mondo ed arrivare prima e in questo momento noi siamo veramente i pionieri di questo mondo di questa tecnologia che adesso ti farò vedere ma andiamo a vedere un'altra cosa importantissima una slide che quando l'ho vista la prima volta a me poteva già bastare solamente quella per quale motivo perché per la prima volta hai la possibilità di collaborare con una compagnia pubblica quindi una compagnia quotata in borsa se tu vai su google e scrivi vrmt vedrai in tempo reale quello che è l'andamento del titolo in borsa dell'azienda word ok e questo è già qualcosa di incredibile è qualcosa che ti dà una sicurezza che non ha paragoni a differenza ok di quello che oggi trovi sul mercato dove magari ti dicono siamo nella fase momentum siamo nella fase stiamo fatturando milioni di milioni di euro ok ma non hai mai un reale riscontro di se quello che stanno dicendo in quel momento è vero qui lo puoi vedere addirittura a febbraio dell'anno scorso lo puoi vedere in maniera tranquilla basta che vai su google come già detto un titolo il titolo in borsa valeva 10 centesimi ok a febbraio di quest'anno in questo momento quando ho guardato l'ultima volta era intorno ai 15 16 dollari ok quindi veramente una crescita incredibile a breve capirai per quale motivo questa crescita sede centrale a miami a 33 16 in giro per il mondo world italia sarà aperta nel 2017 quindi è una fortuna pazzesca a poter vedere questo video in questo esatto momento e ci sono oltre 195 paesi già aperti dove arrivano i prodotti in tutto il mondo quindi veramente qui hai l'opportunità di crearti un business globale ma andiamo a vedere il settore dove dove operiamo il mercato siamo nel mercato delle tecnologie indossabili e io conoscevo già questo mondo ma non pensavo ci fosse dietro una miniera d'oro ok con i dati che adesso ti faccio vedere basta che leggi un po quello che scrivono testate importantissime come il time forbes business insider il wall city journal ok addirittura dicono che il mercato dei dispositivi indossabili avranno indotto di 34 miliardi di dollari entro il 2020 ma ti basta pensare anche solamente alla parola tecnologia a che emozioni che generano nella testa di una persona solamente quella quella parola ci sono persone che magari a casa hanno la peggior marca di detersivi ok veramente quella che costa meno ma magari hanno un prodotto tecnologico che ne costa 3000 che ne costa mille ok perché perché la tecnologia è una cosa che crea emozioni nelle persone questo è un po un dato che fa vedere l'andamento delle tecnologie vestibili tecnologie indossabili nel corso degli anni quindi guarda anche che incremento c'è in quest'anno e soprattutto quello che avverrà nell'anno prossimo dietro ogni grande azienda c'è sempre un grande visionario questa volta italianissimo Fabio Galdi che ha fondato world nel 2011 è veramente è uno dei punti di riferimento sia per i successi che ha avuto ma per la conoscenza che ha nell'ambito tech non solo in italia ma anche veramente in tutta europa e in tutto il mondo qui puoi vedere quelli che sono stati alcuni dei suoi traguardi più importanti in quella che è stata la sua lunga carriera e queste sono alcune alcuni dei riconoscimenti che sta avendo questa azienda in veramente in questi in questi anni riconosciuta come opportunità tripla più Fabio Galdi eletto ambasciatore del network marketing nel 2016 riconosciuta world tra le 100 compagnie più solide nell'ambito del network marketing e a 77esimo posto realmente ok tale top 100 aziende per quanto riguarda i fatturati a livello globale poi ci sono altri dati veramente che ti invito a guardare verificare tu in questa slide andiamo a vedere il mercato e il prodotto con il quale stiamo sfondando il mercato world's first health and lifestyle oracle a real-time health monitoring device unlike any other wearable device on the planet Hilo can monitor the most important measurements including heart rate blood pressure breath rate daily steps calories burned and Hilo can even perform an EKG Hilo can also sense your mood if you're excited or even if you are fatigued paired with the latest smartphone application you can now track the health and well-being of your loved ones imagine being able to monitor your aging parents even if you're thousands of miles away or getting an alert if your spouse's blood pressure is too high Hilo not only monitors your important measurements but it produces a daily weekly and monthly health report that you can provide to your trainer or physician in the near future Hilo will be able to monitor blood sugar levels alcohol levels in our blood oxygen levels temperature and even keep disease delivering mosquitoes away but Hilo is more than the world's most advanced health monitoring device Hilo can also alert you if your loved ones are in danger unfortunately more and more women and children go missing each day according to the FBI with Hilo a child walking home from school can now press the panic button twice and his or her Hilo guardians can be sent an emergency alert via text notifying their guardians that they need help and what's amazing is that the guardians will get the exact GPS location of their loved one let's take a look at another scenario what if you're taking a walk around your neighborhood and you sense danger lurking having that peace of mind to simply alert your loved ones can be a lifesaver now that you've seen the power of this revolutionary product I'm positive you're ready to order one for you and your family members however Hilo is not found in stores Hilo can only be purchased online so click on the buy it now link or fill out our forum to get more information about the Hilo right now Bene hai avuto un brevissimo assaggio di quelle che sono veramente le caratteristiche incredibili che ha avuto che ha questo 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 prodotto che è Hilo cosa incredibile che ti faccio notare che questo video di due minuti che appena visto sarà un video veramente incredibile è un tool veramente incredibile che potrai utilizzare per attrarre a te nuovi clienti nuovi collaboratori perché in questo momento il 100 per cento delle persone a cui mando questo video vuole sapere di più sul prodotto o sul o sul proprio solo sul business che c'è dietro quindi veramente anche questo non mi era mai capitato in cinque anni che faccio che faccio questa questa professione Hilo un punto di svolta nel settore della salute perché cosa andava cosa va a fare nello specifico questo incredibile prodotto conta passi la qualità misura la qualità del sonno veramente incredibile quanto quanto reale preciso anche nelle ore che avete dormito ma soprattutto in quante volte vi siete svegliati le calorie che vai a perdere controllo del cuore pulsante antipanico che adesso ti farò ti farò vedere meglio guardia ns os sistema guardia ns os altra funzione pazzesca frequenza cardiaca frequenza respiratoria l'umore energia anche qui è veramente stupefacente come possa azzeccare nel 90 per cento dei casi veramente il tuo umore la tua energia ma quello che c'è di voli di rivoluzionario è il fatto che riesce a misurarti la pressione sanguigna e in pochi secondi farti un elettrocardiogramma ok quindi funzioni molto 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 importanti ma pensa anche a quelle che visto nel video che sono in arrivo come la possibilità di misurare la glicemia senza invadere la pelle quindi rivoluzione completa nel mondo benessere salute la possibilità di misurare la temperatura corporea o addirittura anche la possibilità di fare l'alco test tutto compresso e in un unico prodotto in unico device tecnologico che appunto ero tutto monitorabile tramite un è un'applicazione dove puoi tenere sotto controllo quelli che sono i tuoi parametri vitali disponibili per ogni tipo di di telefono l'applicazione ma la cosa incredibile è l'applicazione we care cosa vuol dire cosa che cosa puoi fare ogni volta che tu dai un prodotto del genere un elo a magari un tuo familiare al tuo compagno la tua compagna tua zia tua mamma tuo papà perché comunque sia veramente c'è tutto l'interesse che ogni tuo familiare abbia un prodotto del genere al polso con questa funzione we care tu puoi sapere in tempo reale se un valore dovesse superare i limiti di allerta e essere essere avvisato tramite un sms una mail se veramente questi valori vanno a superare una soglia limite che tu deciderai di impostare quindi la possibilità di tenere monitorato lo stato di salute dei tuoi cari anche magari a distanza veramente anche se fossero dall'altra parte del mondo quindi questo veramente per un discorso di sicurezza è qualcosa di meraviglioso un'altra funzione incredibile che c'è dentro è quella dell'anti dell'anti panico ok premendo due volte quel pulsantino che vedi nell'immagine qui a sinistra ok vai ad attivare il panic button viene inviato un sms ed una mail in automatico ai tuoi cari per segnalare un valore un'emergenza riportando anche la tua posizione gps e solamente questa funzione se tu dovessi trovare solamente questa funzione in commercio viene a costare davvero moltissimi soldi ci sono braccialetti e anelli che hanno solo questa funzione e costano anche qualche centinaio di euro quindi e qua invece se l'hai integrata in elo quello che vedi qui a sinistra è la versione nuova di elo disponibile da primo di marzo e per dato un'idea indicativa sono stati venduti 300.000 di elo classic quindi quelli che hai visto nel video negli ultimi 75 giorni quindi veramente qualcosa di imbarazzante e adesso ti farò vedere anche un video di quello nuovo che uscirà dal primo di marzo bellissima altra cosa che trovi sempre all'interno di quando acquisti questo prodotto sono tre placchette di germanio ok come sai germanio è un semiconduttore naturale ed è stato dimostrato che se installato su placche di titanio puro va a migliorare la circolazione sanguigna quindi queste tre placchette sono disponibili già quando acquisti elo ok quindi veramente una protezione anche proprio a 360 gradi ok ma per la prima volta un colosso della tecnologia come toshiba ha deciso di avere una partnership con un'azienda di network marketing come world global network anche qui è una cosa reale ti invito veramente a documentarti a differenza di molte altre aziende che millantano collaborazioni poi su google non riesci mai a trovare nulla ok qui addirittura se scrivi su google toshiba e world global network puoi vedere l'articolo proprio di toshiba che parla di questa collaborazione per quanto riguarda la produzione di questi di questi di questi prodotti e anche le tecnologie di toshiba integrate dentro 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 ero ok e in basso proprio per questo puoi vedere anche che ne hanno parlato anche in america su fox news ti lascio poi il video completo sotto questo sotto questo post però in questo momento magari ti puoi domandare sì ma io questi dispositivi li ho già visti in commercio se ce l'ha il mio amico ce l'ha la mia compagna già posso bene questa slide serve proprio per farti vedere quello che ti dicevo all'inizio che non c'è competizione perché quelli sono le marche più famose su mercato oggi e come puoi vedere dalla slide fanno la metà della metà della metà delle cose che fa ilo ok quindi non c'è paragone ok non hai competizione e se questo pensi che sia una cosa da poco ti faccio ragionare su una cosa oggi le più grandi compagnie di network marketing sono tutte nel settore benessere ok e ognuna deve fare a gara ok per dimostrare che il prodotto migliore di quell'altra che ha una roba simile ok veramente qui tu con questa azienda con questa opportunità con questo prodotto sei a un livello superiore dove non c'è competizione le persone se devono se vogliono questo prodotto possono venire solamente da te perché il prodotto di health care più completo a livello tecnologico che c'è oggi sul mercato e questo è un breve video che ti fa vedere quello nuovo che uscita dal primo di marzo carica batteria magnetico che uscita dal primo di marzo carica batteria molto più ok quindi come puoi vedere è veramente un prodotto molto sexy che non vedrai l'ora di far vedere ai tuoi amici o a quelli che sono i tuoi parenti quindi per la prima volta qui è un prodotto che veramente crea emozioni e ricordati bene che se un prodotto non crea emozioni nei primi due minuti nei primi 1-2 minuti da quando l'hai fatto vedere un'altra persona difficilmente riuscirai a venderlo perché dovrai iniziare a raccontare tutte le caratteristiche e quindi dover diventare veramente un grande venditore ok questo è un prodotto che crea emozioni ma un altro grandissimo prodotto che io sinceramente all'inizio ho sottovalutato è Biogen che cos'è Biogen? è un chip che va a eliminare quelli che sono i campi magnetici a bassa frequenza che hanno un impatto negativo sul nostro corpo addirittura è stato dimostrato che i campi magnetici a bassa frequenza che danno i telefoni piuttosto che i computer piuttosto che i microonde in soggetti giovani vanno proprio a modificare il DNA quindi pensa un po' che razza di conseguenze negative che può avere il nostro corpo un telefono o un prodotto come sia che abbiamo attaccato a noi praticamente tutti i giorni con un telefono cellulare grazie a Biogen e a questo chip tu vai completamente ad attaccare attaccando sul telefono o su quelli che sono i pc piuttosto che il router wifi vai completamente ad eliminare questi campi magnetici a bassa frequenza e ci sono delle certificazioni, degli studi scientifici dietro questo prodotto a differenza di quello che trovi già sul mercato che magari sono chip che sono intercambiabili quindi dopo 1-2-3 anni la loro potenza va scemando a differenza di quello che già trovi sul mercato che magari hanno dei problemi cosa vuol dire? che magari ti tolgono la batteria del telefono quindi sì ti tolgono i campi magnetici a bassa frequenza ma ti tolgono la batteria anche del telefono quindi ti tolgono un problema e te ne danno un altro oppure se applicati sui router wifi vanno a togliere quelle che sono le onde wifi Biogen non fa nulla di tutto questo ma la cosa incredibile è che dura tutta la vita e quelli in basso a destra sono proprio studi scientifici che sono stati fatti sull'acqua e sulla struttura del sangue come sai il nostro corpo è fatto per una buona percentuale di acqua e a sinistra vedi un'immagine della struttura della molecola dell'acqua senza biozen applicata quindi puoi vedere che esplode completamente e invece con biozen applicata rimane intatta quindi un prodotto incredibile di grande grande vendibilità pensa che in ogni famiglia ci sono minimo 4-5 telefoni 3-4 computer 2-3 router wifi veramente con microonde quindi veramente un prodotto che ha una vendibilità incredibile in questi giorni veramente io dico che è più vendibile del pane perché veramente è qualcosa che le persone vogliono specie sanno che con un acquisto una volta gli dura tutta la vita quindi qui in basso puoi vedere delle certificazioni reali reali, documentabili per quello che riguarda gli studi e i controlli che sono stati fatti dietro questo chip e qui un altro video che ti fa vedere un po' questo prodotto ci sono anche un nuovo connector un'arge che è un'arge che è un'arge che è un'arge che è chiaro perché voi nonningli Electro smog Electro smog Electro smog is more subtle than a mosquito And it's generated by every device With a power adapter or a battery And can affect your DNA But don't be scared Now you can stick something on For your health BioZen Your shield sticker against electro smog So small Yet so quick Ok Ma Perché entrare in questo momento in world Ok In questo momento So che magari avrai già visto Una slide simile A ogni presentazione dove vai Ti dicono che sono nella fase momentum Che è il momento giusto per entrare Perché magari non è così In questo caso In questa slide è reale Per quale motivo? Perché in questo momento in Italia Ci sono meno di mille distributori Ok? Quindi veramente hai un'opportunità pazzesca Di piazzarti tra le prime posizioni In questo incredibile progetto che è world Ma andiamo un po' a vedere come si guadagna Fai ancora in tempo a spegnere la presentazione E tornare a quello che stavi facendo prima Se non ti interessa vedere come poter guadagnare 100, 200, 300, 1000, 2000 euro in più al mese Per stare bassi Con questa opportunità Quindi abbiamo visto già Un prodotto pazzesco Ok? Due prodotti pazzeschi In particolare Elo e BioZen Prodotti sexy Quindi veramente prodotti che creano emozioni Le persone che lo vedono E soprattutto utili anche dal punto di vista Del benessere e della salute Ma dietro questi prodotti C'è un piano di compensazione Molto semplice Inizialmente con 4 forme di guadagno Ma tutte e 4 pagano realmente A differenza di altri piani marketing Ti dicono che hanno 250.000 forme di guadagno E in realtà forse ti pagano realmente In maniera concreta Le prime 2 o forse le prime 3 Qui ce ne sono 4 Inizialmente ti pagano tutte e 4 Fin da subito Ok? Come si inizia però? In maniera molto semplice Si inizia diventando un cliente Ovviamente Di questa azienda Come? L'azienda ti mette a disposizione Diversi modi per cominciare Quindi acquistando diversi prodotti Che è il primo Quello che viene chiamato Lelo LX Box 7 Quindi Lelo Single Pack Viene chiamato Single Perché appunto ce n'è uno Che ti verrà spedito Ovviamente con tutte Germania Tutte le certificazioni Ovviamente E' un packaging veramente bellissimo C'è Lelo Family Pack Ok? Che ne ha 4 più 1 gratis Ok? Quindi ce n'hai uno gratis E subito Se fai Questa Se guardando questa presentazione Prima del primo di marzo L'azienda te ne manda anche uno classic Immediatamente Quindi ti spedirà Quelli nuovi dopo il primo di marzo Perché verranno lanciati Dopo il primo di marzo E te ne dà subito uno classic Praticamente in omaggio Ok? E poi c'è il premium Ok? Che ne ha Ne ha 6 E più uno Sempre classic In omaggio Ovviamente La cosa incredibile di Word E' un'altra grande differenza Di questa azienda Che il modo in cui inizi Non è importante Per quanto riguarda La percentuale di guadagno Che è collegata Dove In altre opportunità Tu dici Più investi Più guadagni Sappiamo bene Che questo in Italia In Europa E in USA È qualcosa che è veramente borderline A livello di legge Qui Inizi in maniera meritocratica Ok? Quindi con un prodotto Che scegli tu Ma poi le percentuali di guadagno Te la vai a fare Te la vai a prendere In maniera meritocratica Con quelle che sono le vendite E la costruzione della squadra Che andrai a fare La cosa pazzesca qual è? Che solitamente Nei network tradizionali La gente inizia con Magari col kit più alto Perché è collegata A qualche vantaggio Nel piano di compensi Qui io Mi sto riscontrando Una cosa pazzesca Che l'80% della squadra Ha iniziato col family Perché? Perché ha tutto L'interesse di far avere Questi prodotti A i suoi familiari Quindi veramente Qui la gente capisce L'importanza Di questo prodotto È più per uno scopo di lugro Che vabbè Ci può stare Ma veramente Le persone vogliono Far avere questo prodotto Sul polso Al polso abbraccio Di quelli che sono I loro familiari Quindi Anche qui Veramente Se dovessi fare un paragone Qualcosa che non ho mai visto Veramente Di come reagiscono le persone Quando vedono anche Questo prodotto Oppure Puoi diventare sempre Un cliente o un member Con i due kit di biozen Uno da 10 più 2 gratis E uno da 30 più 8 biozen gratis Ok? E ti ricordo sempre Che questi qua Hanno una vendibilità Più del pane Veramente qualcosa Di incredibile Ok? Prima forma di guadagno Vendita diretta 10% Ogni volta che un tuo cliente O un tuo collaboratore Vorrà iniziare l'attività E comprerà un prodotto Da quello che è il tuo sito Di e-commerce Personale Ok? Col tuo nome e cognome Tu guadagnerai un 10% Sulla vendita Di questi prodotti Molto semplice Molto chiaro Tra l'altro qui Non hai neanche problemi Di ebay Cosa vuol dire Che molti network Hanno problemi Che poi I stessi prodotti Li vai a trovare Su ebay A un prezzo minore Qui Questo è un problema Che non ci sarà mai Perché un cliente Un distributore Pagano il prodotto Lo stesso Pagano allo stesso prezzo Il prodotto Ok? La differenza è qual è Che il collaboratore Ci guadagna Una percentuale Da quello che è sistema Ok? Quindi veramente Non troverai mai nessuno Che metterà su ebay Un prodotto come questo A un prezzo maggiore Perché lo troverà A un prezzo di mercato Quindi il prezzo Che la compagnia Ha stabilito Sul tuo sito Quindi veramente Anche qui Un problema gigantesco Che molte compagnie Hanno Completamente qui Inesistente Quindi sei veramente Molto tutelato Anche in questo Mi sembrava giusto Fare questa piccola parentesi Poi hai Un fast start Quindi cosa vuol dire Che quando un tuo cliente Un tuo collaboratore Inizia con uno dei Dei kit Che hai visto Se inizia col single pack Hai subito 32 euro di guadagno Se dovesse iniziare Col family Ne hai 135 Se dovesse iniziare Col premium Ne hai 200 Se invece Dovesse cominciare Col kit di bio Da 10 Più 1 Più 2 In omaggio Tu hai subito 45 euro Una tantum E se dovesse iniziare Con quello più grande Ne hai 135 euro Una tantum Anche qui L'azienda Paga settimanalmente Essendo di stampo americano Paga ogni settimana Ok Bene Ma andiamo avanti Terza forma di guadagno Il Dua Team Ok Come si diventa Team builder Ok Dando l'opportunità A due persone Che si possono essere Anche due clienti Che ti compano Semplicemente dal sito Di entrare a far parte Appunto Di questa In questa Grande compagnia Quindi Come arrivi a guadagnare Il 10 o il 20% Dal dual team Quindi andrai a creare Due team separati E tu sarai pagato Il 10 o il 20% Su quelle che sono I fatturati Che si andranno in generale In una di queste due squadre Ok La cosa pazzesca qual è? Che come ti dicevo all'inizio In maniera del tutto meritocratica La tua entrata In word Quindi il kit Che vai a scegliere Non è collegato Nel percentuale di guadagno Bensì Il guadagno È meritocratico Cosa vuol dire? Quando vendi Ad esempio Per un totale Di 100 punti A sinistra e a destra Ok Sei qualificato Il 10% Guadagni Il 10% Dal binario Se invece fai 450 punti Di vendite A sinistra e a destra Con tutto quello Che poi è il sistema Vai a guadagnare Il 20% Dal fatturato Che si va a creare In una delle due Delle due gambe Del binario Ok E il 20% È la percentuale Più grande In assoluto Che puoi raggiungere In word Per quanto riguarda Il dual team E qui Una cosa incredibile Non lo perdi mai Non hai bisogno Di riqualificazioni Perché il 20% Una volta raggiunto Non lo perdi mai Terza forma di guadagno Quarta forma di guadagno Matching bonus Quando tu aiuti I due primi Tuoi collaboratori A duplicarsi Quindi a trovare Magari due clienti O due collaboratori A loro volta Ti si sbloccano Tutte le altre forme di guadagno Quindi in particolare La quarta Ma poi anche Il miller airpool Il car bonus La possibilità Di avere viaggi gratis Insomma Tante veramente Cose molto carine Che ti assicuro Che fanno Veramente comodo Perché c'è gente Che Non vuole Magari una somma di denaro Ma vuole un oggetto Molto di più O un viaggio Ok Qui hai tutto questo Ma La quarta forma di guadagno È il matching bonus Anche questa forma di guadagno È molto diffusa Nel network marketing Ma per una volta Qui è reale Cosa vuol dire Che tu guadagni Il 10% Di quello che le tue prime linee Quindi E poi a scalare Ovviamente Più fai carriera Più vai a pescare In profondità Ok Ma tu Fin da subito Hai il 10% Di guadagno Dalle tue prime linee Ma da cosa? Da quello Che le tue prime linee Quindi La tua prima generazione Guadagna A settimana Da quello Che sono i guadagni Dal dual team Lo ripeto Perché è veramente Qualcosa di pazzesco Quando io l'ho capito Questo 10% È reale Tu guadagni Il 10% Da quello che le tue prime linee Guadagnano Ogni settimana Dal dual team Quindi faccio un esempio Se tu inserisci A sinistra Giovanna E a destra Paolo E quella settimana Giovanna e Paolo Guadagnano Uno 1500 E l'altro 1000 euro Dal binario Dal dual team Tu guadagni 150 E 100 euro Solamente in quella settimana Ok Quindi veramente Anche qua Se dovessimo paragonarlo Non ci sono Non ci sono Paragoni Ok Come vedi Più fai carriera Questa è la carriera Partendo da silver Gold Platinum Diamond Che è una delle qualifiche Più ambite in questo settore Double diamond Eccetera eccetera Vai a pescare in profondità Quindi già da gold Tu L'azienda ti riconosce Il 5% Sui guadagni Di tutte quelle che sono Le tue seconde linee Sempre ricordati Reale Ok Quindi in questo caso Veramente si parla di guadagni Di matching bonus Dalle tue seconde linee O dalle tue prime linee Reali E non hai idea Di che cosa vuol dire Andare a prendere Un 5% Qui in seconda profondità È qualcosa di incredibile Lo sto verificando Già Quelli che sono i miei guadagni È veramente qualcosa Che non ho mai visto In tutti questi anni Che svolgo Questa Che svolgo Fantastico Io stesso lo vorrei comprare Senza magari Neanche voler fare l'attività Quindi ci siamo Sul prodotto Ci siamo Sul piano marketing Perché è semplice Ma paga Ok Paga tantissimo Ma mi chiedevo Ok ma dove sta La ritenzione Dove sta la rendita Non vedevo All'inizio Quando l'ho visto Non vedevo la rendita Poi Mi hanno presentato Mi hanno spiegato bene Questa slide E ho capito Che non c'erano paragoni Solitamente Nelle aziende Di network marketing Di prodotto C'è una ritenzione Che va dall'8 Al 10% E se hai 10% Di ritenzione Sei una superstar Qui Mi hanno fatto vedere Ecco Con gli americani Quando ne avevo Stavo valutando Questo progetto Mi hanno fatto vedere Una ritenzione Dell'80% Ok Qui la gente Ascolta quello Che ti sto dicendo Qui la gente Le persone del tuo team E non solo Anche i clienti Vorranno Attivarsi Non vorranno Rimanere fuori Da tutta questa cosa Che c'è dentro L'attivazione Ok Questa è chiamata Autoship È chiamata Appunto La classica Attivazione Che c'è in ogni network marketing Ok Per Anche Sostenere Quella che è il piano di compensi C'è in ogni network Ok Qui quanto costa attivarsi Costa 59 dollari Che quindi col cambio Saranno comunque sia 59 60 euro Ok Ma Andiamo a vedere Cosa c'è dentro Andiamo a vedere Perché la gente Le persone del tuo team Della tua squadra Vorranno attivarsi Non ho mai visto Solitamente le persone Devono attivarsi E cercano di spendere Il meno possibile Qui le persone Del tuo team Vorranno attivarsi Perché Prima cosa che ti viene data Con questi 59 euro Che tu fai Ogni mese Per essere attivo Per la tua attivazione Tu guadagni Sei attivo Quindi guadagni Ovviamente Facendola Ogni mese Da quelle che sono Da quello che è il tuo team Ok Molto semplice Prima cosa Seconda cosa Ti vengono dati 5 voucher Dell'applicazione Pro di Elo Da poter regalare L'applicazione di Elo Ha due versioni Una gratis E come ogni applicazione C'è anche la parte a pagamento La versione a pagamento Per i clienti Costerebbe 12 euro al mese Con delle caratteristiche Che sono Spaventose Imbarazzanti E Ne vorrei perdere tempo Qua D'elencarti Quelle che sono Tutte le caratteristiche Perché mi ci vorrebbe Davvero Un altro tempo Ma Sono veramente Questi due tipi Di applicazioni Quella gratis Che ha degli svantaggi Ovviamente Come sai Le applicazioni gratis Hanno sempre Comunque sia Delle versioni Delle caratteristiche Molto limitate C'è quella pro Qui hai 5 voucher Da poter regalare A quelli che sono Dei tuoi clienti A cui magari Hai venduto Uno di questi Di questi prodotti Ne hai 5 Quindi se moltiplichi 5 per 12 euro Hai già 60 euro di valore Solamente da questo Secondo punto Quindi già qui Potremmo chiudere E dire ok Hai già il controvalore Per quello per cui Ti stai attivando Ok Ma andiamo avanti Perché Terzo punto Ecco cosa hai In questi 59 dollari Di attivazione Quelli che saranno 60 euro di attivazione Hai 512 giga Di cloud E se non sai Cosa è un cloud È una specie di Memoria virtuale Una specie di nuvoletta Dove puoi archiviare Quelli che sono i tuoi dati Foto Video Quindi è come se avessi 512 gigabyte In più Di memoria sul telefono E anche Una sala webinar Da mille posti Tua Personale Ok E anche questo Ha un valore di 39 euro Le sale webinar Come sai Se tu Vuoi fare un meeting online Una presentazione online Della tua azienda Della tua opportunità Ti costano 29-39 euro Al mese Ok Con magari 100-200-500 posti Qui Hai una tua sala webinar Da mille posti Tua personale Sempre dentro Quest'attivazione Ma non è finita qui Perché al quarto punto Hai un'assicurazione Per Elo e in foglio Che sarà il nuovo telefono Che l'azienda lancerà fuori Quest'anno Sempre in collaborazione Con Toshiba Del valore Di altri 99 euro Che cos'è questa assicurazione Un'assicurazione aggiuntiva Che solo chi si attiva Rispetto ai clienti Che hanno la garanzia Di un anno classica Ok Sui prodotti Tu Attivandoti Hai un'assicurazione aggiuntiva Cosa vuol dire Che se un domani Rompi i prodotti Per colpa tua Ok L'azienda Te le cambia immediatamente Quindi anche qui Veramente è qualcosa di pazzesco Ma La grande rivoluzione Sta nel quinto punto Ogni volta Che tu Ti attiverai Con questi 59 euro L'azienda Ti ricaricherà Sul tuo back office 75 euro 75 punti Ok Quindi ogni volta Che ti attivi Tu avrai 75 euro Ricaricati sul back office Da poter Rispendere Dentro Lo shop Di word Per comprarti cosa Per comprarti Un elo Magari gratis Ogni anno E un telefono Gratis Ogni anno Cosa vuol dire Vuol dire Se elo Costa 320 euro Sul mercato Tu dopo 5 mesi Che ti attivi Hai accumulato 350 punti Adesso i calcoli giusti Non ce la faccio a farvi Ma Se tu hai accumulato Ad esempio 350 punti Perché ti sei attivato Per 5-6 mesi consecutivi Puoi comprarti Un elo Completamente gratis Quindi tu Hai la versione Grati Hai la versione Nuova Che uscirà Ogni anno Di elo Completamente Gratis Ok Quindi potrai Comparti I bios Potrai Comparti Il telefono Quindi veramente Qualcosa di incredibile Ok Altra cosa Molto interessante Che riguarda Te che magari Vuoi fare l'attività Che se tu ti attivi Per 12 mesi consecutivi Quindi hai una costanza Nell'attivarti Ok E in questo caso 60 euro Non incidono Sul bilancio familiare Di una Appunto Di una Famiglia L'azienda ti riconosce Un 1% in più Di tutti quelli Che sono stati I tuoi guadagni Nel corso dell'anno Su Quello che è il binario Quindi È come se tu Dal binario Non prendi il 20% Ma ne prendi il 21% Solo che Quello 1% ti viene dato Dopo che ti sia attivato Per 12 mesi consecutivi Quindi Un ulteriore Riconoscimento in più Per la tua costanza Quindi Per la prima volta Cosa c'è di rivoluzionario Nell'attivazione Perché le persone Del tuo team Vorranno Attivarsi Non devono Ma vogliono attivarsi Io ho visto che anche Clienti che mi comprano Il prodotto Che mi comprano Mario Nelo Vogliono attivarsi Perché vogliono i punti Perché quando uscirà Il telefono nuovo O il modello nuovo Dal primo marzo Non vorranno spendere Altri loro soldi Ma vorranno Semplicemente Usare i punti Che l'azienda Nell'è caricato Su back office Ma appunto Cosa ti dicevo Cosa c'è di rivoluzionario Che per la prima volta Qui le persone Spendono meno Di quello che ricevono Solitamente Quando ti attivi In altre compagnie Di network Tu hai L'equivalente Di prodotti Per di quello che hai speso Spendi 200 E ti arriva 200 euro Di prodotti Qui Se tu fai 59 per 12 Quindi l'attivazione Hai una spesa Di 700 euro In un anno Ma quello Che ti viene dato Come controvalore Sempre nel corso dell'anno E più del doppio Quindi anche questo Qualcosa di rivoluzionario Ma attenzione qui Perché il decimo punto È qualcosa Da fuori di testa Per la prima volta Un'accompagnia ti dà Un fast start Un rimborso diretto Su ogni persona Tua diretta Su tutte le tue prime linee Che si attivano Cosa vuol dire Che se tu hai 5 o 10 prime linee Che si attivano Ok Tu Ti viene subito Riconosciuti 6 euro Da ogni persona Che si attiva Ogni mese Ogni santo mese Da ogni tua prima linea Che si va a attivare Con questi 59 dollari 59 euro Ok Ma la cosa ancora più incredibile Qual è Che questi 30 Questa attivazione La 59 Genera 30 punti E questi 30 punti Vanno a finire Tutti Nel binario Che se fai un conteggio Sono Il 20% Di 30 punti Sono altri 6 euro Che l'azienda ti dà Su questa attivazione Ok Quindi qua È veramente qualcosa di rivoluzionario Qui non hai limiti di profondità Dalle persone che si attivano Un domani avrai Una rete Di 30 profondità Anche la trentesima persona Che ti attiva Che si attiva Con questi 59 Per tutti i vantaggi Che ti ho detto Solamente dall'attivazione Ok Tu riceverai anche I suoi 30 punti Nel binario Ok Quindi qualcosa di rivoluzionario Non hai limiti Di profondità Di guadagno Neanche Dalle attivazioni Ok Quindi Pensaci bene Riguardati magari Questa questa parte Perché è veramente La cosa più Più pazzesca Che io abbia mai visto Nell'industria Del network marketing Non hai mai visto Una cosa Del genere Dove le persone Si attivano Perché vogliono Attivarsi E tu Ti viene riconosciuto Subito 6 euro Da tutte le tue prime linee Più 30 punti Che vanno a finire Tutti nel binario Ogni mese Che tutto il tuo team Si andrà ad attivare Quindi qualcosa Di veramente Senza Senza precedenti Questa è la carriera Come hai visto prima Si parte da silver Da gold Platinum Diamond Che è una delle qualifiche Come sai più Bitter Nel mondo del network marketing Double diamond E così via Ok Fino ad arrivare A qualifiche importanti Che sono già state raggiunte In tutto il mondo Come il gran President millionaire Ma Come si raggiungono Quelle qualifiche Quelle qualifiche Sono settimanali E sono in base ai punti Che tu vai a fare Con la tua squadra Nella gamba Debole Ok Quindi se tu fai In quella settimana 2000 punti Nella gamba debole Ti qualifichi automaticamente Come gold Ok Che 2000 punti In una settimana Ogni settimana Ogni settimana Pagati al 20% Sono 400 euro A settimana Già dalla qualifica Di gold Ok Ad esempio Per fare il diamond Qua hai bisogno Di 50.000 punti 50.000 euro Di fatturato Perché quali sono i punti Ma per fare il diamond Qui hai bisogno Di 50.000 euro Di fatturato Ogni settimana Settimanale Ok Non è facile Chiaramente Ma è veramente Molto 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 Raggiungibile Ok Quindi con questa slide Io ti volevo salutare Questi sono alcuni Dei punti chiave Che ti lascio Per un secondo Guardare Per quanto riguarda Questa compagnia Ma come sai Se sei arrivato Fino qui E non hai staccato Gli occhi di dosso Da questa presentazione Devo anche dirti Che il posizionamento È segreto Perché specie In questo sistema Specie col piano Marketing di World Se parti oggi Hai un vantaggio Rispetto a partire Domani O dopo domani O dopo domani ancora Quindi Il mio consiglio Più grande Che posso darti In questo momento È contatta Immediatamente La persona Che ti ha mandato Questo video E fate subito Fin da subito Inserire nel sistema Diventando cliente Se magari Non hai visto Magari che È un'opportunità Di business per te O magari Non ti interessa Guadagnare 100 200 300 euro In per mese Ok Però hai l'opportunità Di avere fin da subito Questi straordinari prodotti Oppure Hai l'opportunità Di Non solo Avere il prodotto Incredibile Ok Come Biozeno Come Elo Ma anche L'opportunità Di guadagnare Quindi Contatta Immediatamente La persona Che ti ha mandato Questo video E se hai qualche domanda Puoi contattarmi Personalmente Alla mail Che ti lascio Sotto questo Sotto questo post E ti risponderò Nelle prossime 24 ore Sono Daniele Vecelio E ci vediamo Nelle prossime presentazioni E nei prossimi video Che ti lascerò Sul mio canale Youtube A presto Ciao Ciao Grazie.